Saggi, onesti e diligenti, ti cercano per darti, darti delle pillole di saggezza e insegnarti ad affrontare la vita. Se vuoi, siedi sulle loro forti ginocchia e ascolta le loro esperienze di vita. Fanne tesoro e arricchisci con solerzia le tue conoscenze. Non chiederti se ti serviranno, ma fanne tesoro e custodiscile con amore. Quando la loro mano ti accarezza è come la mano di Dio, sincera e piena d'amore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.